Max, l'uso delle parolacce è una risata assicurata? Ahia, cazzo! Amore, ti sta bene? Se levi il naso da quel telefono, forse vedi dove metti i piedi? No, la parolaccia non è una risata assicurata. Anzi, se usata nel modo sbagliato, può arrivare a svilire il testo, a fare quella che viene detta comunemente volgarità gratuita. Ci sono però dei momenti in cui la parolaccia deve arrivare e non può essere sostituita da nient'altro. E qui sta al coraggio dello scrittore, al coraggio di violare anche il proprio pudore in alcune situazioni, perché noi ci troviamo a dover gestire personaggi che magari non hanno il nostro stesso pudore, che non parlano come noi, che non si contengono in alcune situazioni. C'è una scena della Grande Guerra in cui Gassman e Sordi si stanno avvicinando al capanno degli attrezzi e nella notte si sente un colpo di fucile e poi una voce che dice, chi va là? Allora Alberto Sordi risponde, ma che fai? Prima spari e poi dici chi va là? E l'altro risponde, meglio un amico morto che un nemico vivo. Chi siete? Ed è a questo punto che arriva la parolaccia, perché Alberto Sordi risponde, semo l'anima deli meglio mortacci tua. Allora, senti che questa parolaccia non può essere sostituita con nient'altro? Non può essere sostituita con nient'altro perché in quel momento, che è altamente drammatico, Alberto Sordi ha rischiato di morire insieme a Vittorio Gassman. E quindi la parolaccia è l'unico elemento, l'unica parola che puoi usare per far scendere la tensione, che in comicità vuol dire far scattare la risata, se il tutto è stato costruito bene.